Si avvicina il capodanno e si intensifica l'azione di contrasto ai botti illegali. Sequestrata oltre una tonnellata di fuochi d'artificio di categoria F2, F3 e Cipolle, è il risultato di due distinte operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare, presso una ditta di Somma Vesuviana, sono stati trovati ordigni artigianali di fabbricazione illegale ad alto potenziale esplosivo, oltre che materiale pirotecnico, mentre a Giuliano in Campania, nel deposito di un corriere nazionale, sono stati trovati fuochi destinati a Roma e Cagliari, che indicavano un mettente inesistente. Il controllo della merce ha permesso di sequestrare il carico, identificare lo spedizioniere e riscontrare che il corriere era completamente all'oscuro del contenuto dei pacchi. Tre le persone denunciate, di cui due arrestate per detenzione con merce abusivo e omessa denuncia all'autorità di materiale esplodente.